bella a tutti ragazzi con l'unice di cipunta ci troviamo oggi un nuovo episodio di clash royale allora si vedete c'è ancora tutte le notifiche del plan il nuovo evento e lo shop perché volevo appunto con voi vi ricordo che noi ci mancano due carte e abbiamo 49 mila d'oro anzi no una carta sola perché forse l'ultima volta avevo molto più oro infatti infatti ho preso la fuori legge quindi adesso ce ne manca una sola e oggi vediamo cosa abbiamo ok il pecca quindi chi se ne frega copi doniamo sempre bene diamo un nuovo evento alla sfida della super rinfoca ok non minta io non la uso diamogli omaggio ok nulla nulla il mazzo è sempre al solito se volete copiarlo questi potrei farli al 12 questi questi all'11 però io aspetto lo strego notturno oppure questi al 12 quindi iniziamo ok non iniziamo con carte buonissime su tutte carte difensive però per far girare il deck e dire di partire con la principessa si sono divisi aia ok devo ora dire di partire giù di barba ai scelti di cattiveria vai vediamo se l'altro attacco funziona sapevo e questi sono danni sicuri ancora come è possibile c'è la specchia questo ma tutta la vita c'è la specchia e non c'è gli scarri per difenderti da questo però eh però c'è gli scarri un colpo glielo molli bravissimo ah se mi mollava anche il secondo era meglio però ok raga abbiamo portato la torre 93 di vita bravissimi barbari scelti adesso vabbè ci fra cosa molli no il golem no 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 devo fare questo perché si tanto lì ha sprecato l'otto di riservi sprecato quindi io adesso direi di fare così così e così perché devo far girare il deck esatto per avere loro no gli scarri come fanno ad essere quelli di scarri eeeh la madonna serve una zap tatticissima ok ok è già migliorata un po' la situa però si è sempre comunque presi male sempre perenemente vai giù così di cattiveria veloce cosa cosa a che livello c'aveva la fulmine per togliermi così tanto no raga così non va bene continuo a perdere non va per nulla bene sapete cosa vi dico sono stufo di perdere sempre con un deck serio allora prendiamo un deck stupido prendiamo questo tutto leggendario che mi sono fatto io spero funzioni anche se l'ho tutto e all'uno vai giù di così di cattivo allora inizia subito così vai così non mi vuoi dire scusa ne serve assolutamente la tronco ma scusa ma c'ha la mia stessa carta ok adesso direi di andare così e invece no vai giù con questa cercando di prendere la torre please bravissimo fuo di legge guarda come colpisce ok abbiamo fatto un bel po' di danno però non è mai abbastanza quindi adesso per recuperare così vai qui di boscaiolo la tronco ok abbiamo recuperato già di più ma non so quattro di lisi così ok se il drag infernale arriva sotto la torre è una cosa bellissima però credo molto difficile in questo momento c'è sempre la principessa pronta a rispondere oh quello è un problema quindi lo facciamo così per me questo lì non se l'aspettava esatto non se l'aspettava mai nella vita ma nanch'io mi aspettavo mai questo nella vita perfetto ho tirato mai la tronco però non abbiamo il cosetto lì che colpisce la torre se dire di far così aia quella non pensavo l'avessi andiamo quasi giù di cattiveria questa la tengo se butto giù la gang di qua non ho il draghetto dobbiamo assolutamente buttare giù una minchia di torre no che per 400 di vita stiamo scherzando vero però però adesso è sempre giocato meglio di prima devo dire però sapete cosa? siccome sono stufo di perdere a clash of royal adesso giochiamo a clash of clans ecco perchè sono sceso sotto il 3.000 e mi parte la connessia sono stufo di perdere allora giochiamo a clash of clans decentemente però sperando che la connessione va ecco quello gli manca un giorno quello gli manca due giorni e quello gli manca 16 minuti allora vabbè questa è la mia base scarsissima lo so a livello 46 e la c'è una cassa di gemme che voglio prendere un bottino prendiamole ci fa sempre comodo se magari la connessione non facesse sti scherzi quindi questa invece è la base del costruttore abbastanza decente devo dire tra poco posso farmi questo qui al 5 però sono solo dettagli io direi perchè non le potenziamo tanto 10.000 tempo 0 proprio quelle più inutili ho potenziato ma sono solo dettagli raga oggi proprio vuol dire che il video non si può fare non mi lascia nel clash royale vincere nel clash of clans giocare proprio quindi se volete provo a fare una partita ok ragazzi Quanto pare il video doveva proprio finire qui Perché sembrerebbe una giornata sfortunatissima Script su Royale Connessione su Clash of Glass Quindi vi chiedo di iscrivervi Commentate, lasciate like E noi ci vediamo in un prossimo video Bella raga